Ciao ragazzi e benvenuti con un nuovissimo video di Brazzocrew E oggi siamo qui con un nuovissimo video su Brawl Stars Insieme a Stormy Ciao Brazzo E a Jack Ciao Brazzone Eccolo Ragazzi Brazzo aspetta, Brazzo ride, che c***a ridi Che ha 10.000 like, shoppi 50 euro Che palle, mo che comincia, ma che stai Mike Shoshow Allora, se questo video arriva a 10.000 mi piace, 50 euro Se questo video arriva a 20.000 mi piace, 100 euro Se questo video arriva a 30.000 mi piace, 150 euro 10.000 sono 50 euro per te, Brabo Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate non tantissimi like Bastano 10.000 9.000 E praticamente gioco a questo gioco da un sacco di tempo E insieme a Stormy e Jack stiamo nerdando alla grande E abbiamo fatto tantissime coppe, giusto? Si Brazzo, però tu devi restare basso, così c'è un bassilello E riusciamo ad arrivare a 10.000 coppe anche noi Ok E tu stai già salendo un po' troppo Oh, quanti ne hai? Aspetta 3 o 4? 3 3 Ok, no no, meno male Ok Allora Jesse Brock Penny Allora E un po' di gettoni Otti Praticamente Devo accettare Questi qua Sì, certo, certo, stai da noi Ok Nelle casse quelle enormi ti devono uscire quattro Quattro oggetti Nelle casse invece quelle cagose Deve uscire diretto il Brawler Fa vedere chi ti manca intanto Allora Allora infatti vi faccio vedere un attimo tutti quelli che ho E addirittura ho trovato Spike in un pacco gratis Quindi alla faccia Oh, bravo hai il titolo Hai il titolo Trovo il leggendario nel pack nella box free Tanta roba Tanto già c'è l'oro Ormai sta pure a livello 5 a posto Hai Spike a livello 5 mg Sotto chi è che ti manca? Fa vedere? Mi manca un sacco Ti mancano 9 Tutti gli epici Rossi due leggendari che troverai oggi Dai, proviamo Però bravo aspetta Andiamo a controllare la percentuale di drop Vai nel negozio Negozio Vai su Vai sulla cassa Vai sulla cassa Cassa enorme Ok questa qua Vai apri Vai su info Allora Abbiamo 94% il punto energia 0,062 Vabbè È 0,0624 Vabbè però non è bassissima eh Tu fai conto che hai trovato Spike con lo 0,01 Ah infatti Vuol dire che hai ricevuto un culo una madonna Quindi apriamo tutte queste casse quelle normali Poi subito dopo apriamo le casse Anzi apriamo subito queste No, no, no Tutte quelle normali Aspetta brazo aprila col naso Fidati Col naso Si si Taccia col naso Vediamo che chi esce 3 o 4 1 3 1 1 Un oggetto rimasso 1 Oddio brazo aspettac Rock Com'è possibile? Un'unica è possibile Una cosa di questa qua Ma non è possibile Ma... Ne è che c***o Ho scarmato il gioco Di solito ne scano tre c'è ora una leggendaria oppure � o brazo la c***o bugato Dici? Mamma mia Oh Spike Quanti c'è noi? 3 6 Ma che è? Niente ma che cos'è? Ma lo sta trollando Brazzo Ne è riuscito uno prima Riprovo Vai Brazzo Vai Il momento Vai apri Ce l'ho dura adesso 2 ok All'normale All'normale Se ce ne è giusto 3 ci sta Ok Ok adesso siamo tornati nella normalità Proviamo allora dai Questo che è la buona 2 Il primo Niente Niente Jack chi trova Jack chi trova In fondo un po' di fortuna Brazzo Voglio dire che trova Frank Che ci serve nel team E il primo Oh sempre però Dai Brazzo Brazzo Devi strofinare Facciamo un po' di macumba brasiliana Così dai Così Vai 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 Esce un po' di culo 2 18 Stecca Buono Non posso potenziarlo Gratta per sedere e poi apri Dai vai vai Dai con la puzza di Dai Così Stortina per bene Ok Quel dito che puzza di Adesso Perfetto Andiamo a vedere 30 Bombardino Ottimo Rock Oh però ci servirà Un rock potenziato Jack Così Così colt Così colt Shelly Non ci interessa Più tre di gemme Così Per ringraziarti Dai cosa Che arrivi a 50 gemme Poi ci stanno La megacassa in offerta Oggi Davvero Ma 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 Ciò Piamma Guardino Vai brazzo Vediamo Io Sì Io Mi aprierei Una megacassa Se fossi Spike E spezza Un attimo La situation Quanti gemme hai Ho 45 Dai Ti servono Altre 4 gemme Eccolo 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 Ticket Cavolo Vai brazzo Vai 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 Spacchiamo Spacchiamo 5 gemme Ha dato 70 d'oro Tantissimo Ha dato 70 d'oro 70 d'oro Tantissimo Ma Brazzo Vedi che l'ha Un baggato Ancora il primo Colt E basta Brazzo non ci siamo Non ci siamo gli ultimi nove Dai 12 Stecca E basta Non ti dà la gemma Non va bene Ma se te ricratelo Bravo Dai eccolo lì Un po' di sangue 50 50 Oh ma questa cosa Oh E anche io le voglio trovare Sotto questo oro E nelle casse qua Del cacchio Eccolo 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 Brazzo Grattatino Perfetto Un po' di pidocchi 17 Spike Spike Buono Stecca Niente Oh non glielo dà Non glielo dà Non glielo dà 6 Dobbiamo contattare La supercell Contattare la supercell 19 Oh ancora Brock Brock O ti dico che Jumpytec ha spacchettato 100 di queste casse Non ha tratto niente Davvero Davvero 22 22 Presplose in maniera Particolare Quindi Ecco la gemma Tre gemme E te ne mancano Altre tre E siamo a cavallo Dai 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 Eccolo Bull Pocho Oh ma vedi che non gli dà Il brawler Oh l'ultimi tre Sto bastardo di gioco 30 Cavolo Il primo Prende me lo stanno potenziando Stecca proprio No Il ticket No Volevo le gemme Ultime due Ultime due La gemma La gemma 24 più due oggetti Stecca Stecca E spike Questa è l'ultima È l'ultima Dobbiamo gustarcela Mi scaccolo Questo è il momento Bisogna Meno trovare la gemma La gemma La gemma Eccolo qua 16 Cavolo Niente non ti ha dato la gemma No Che lezzo No 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 Eccola Si si qualcosa Eccola Clicca No Si scioppa Più inutile della storia Sono tutte Ho fatto delle partite Sei partite Quattro volte il migliore Attenzione Brazzone Ma noi ti alziamo Brazzone Incontriamo livelli 10 Inizia a diventare tosta Vabbè Vai Questo è un buon team Facciamo una così Questo è il team scelto Matching possibile Perché Vai vai Qualcuno ha cliccato Perché l'ingegnergeco Ha cliccato esci Ok È un fallito Seguiamo le istruzioni Uh Allora Allora Tre tank Quindi stiamo Stanno Loro stanno nei baci Brazzone Tu devi andare a prendere Gemme al centro Occhio che uno è venuto Qua sinistra Cercate di stare al centro Questo È al 10 Oh Perché Eccolo 10 Lo schifoso Ah beh L'abbiamo ammazzato L'importante Ma ammazzato lui Sto bastardo Era nascosto lì dentro No Ho visto Tronzo No Non ha vita Non ha vita Jack Non ha vita Perché non ci credo Non ci credo Vai vai È il problema di sto team Che si prendono Le vie laterali Non possiamo farli Ma guarda Ma ha bloccato Sto in fame Comunque questo qua Che spacca tutto per terra Come si chiama lui Crank Crank Quello è quello Che ti ho detto C'è ma tu ne blocca troppo Dalla ultimazione All'ultimo Lo scrauso Buono 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 Altra ultima Buon danni Buono danni Oh io so Ho guarito Come Gesù E dobbiamo cercare Di uccidere questo Frank Ecco però c'è Bull Qua che mi rompe È morto Frank Vai Bravo Bravissimo Arrivo Bull Bravo Jack Mamma mia Mamma mia Io che io ho rotto il culo Da dietro Mamma mia Jack Do già Via 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 Spara 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 Non li fa avvicinare Adesso siamo in vantaggio noi Perché loro sono solo da ravvicinato Sì Falliti Ha falliti Ok Ho rotto il culo Rotto il culo Mamma mia Ragazzi Vincono subito Contro i livelli 10 Che falliti 7-6-10 Contro 7-7-6 Vai di nuovo Di nuovo Subito Dai Facciamo subito N'arta Dai 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 Proviamo Anzi C'è il team Il team A sgarra Se avete più di 6.000 5.000 Quanti so Eh Brazzo Qua 6.000 6.000 A salire di brutto Eh ho capito Ragazzi Questa però It's very complicated Spacco quel muro lì Occhio occhio sono quasi morto Sono quasi morto Perché adesso sei morto Stai dietro a Stormy Stai dietro a Stormy Dietro a Stormy No Brazzo Non mi avvicinarti troppo però eh Oh l'avevo fatto fuori Ti ho salvato il culo eh Ah 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 Cacchio Nooo Noo Stormy It's very complicated C'hanno l'assassin Hanno l'assassin E io c'ho Bull E lì scoppio Che voglio Vai che la fallita è morta Oddio È toccato agli quel mortaio Eh lo so Quel mortaio Ci provo Ci penso io Sono morto Bravo Non è morto il mortaio Brazzo Eh Jack torna 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 Riferico per la vita C'è uno qua che Oh c'aveva ulti Bastardo Morto Pocho Ci sono quattro gemme lì sopra Io ho ammazzato Bravo Brazzone Così cattivo ti voglio Bravo Ok è morto 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 Salite salite Pingete Sono un fallito Guarda mi l'è stato Guardalo Ma è brazzo Ulta 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 Non morire non morire Non sono morto Sono morto Scappa sotto Torna 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 Ho schivato proprio la grande Via 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 ci penso io ragazzi Non fai avvicinare Vada 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 Arriva l'ulti del destino Vai Ti do vita ti do Ma chissò Mamma mia Mamma mia che squadra ragazzi Che squadra Che squadra Pazzesco ovviamente La terza brazzo Un altro La terza La terza poi Ok la terza Qui giocano 3 su 3 Giocatori trovati 6 su 6 Attenzione Attenzione Terza passita decisiva Questi pro Scarsi Scarsi Buono Morto La vado ad andare a prendere Già e mette Bravo Mamma mia C'è l'ulti Da fallito proprio Che l'ho sbagliato tutta Peccato Oh guarda quello Come ha buttato malissimo No mi ha buttato Occhio qua che c'è il primo Che rupe Ma ragazzi Ecco il primo Ecco il primo Maronna santa Che bello È scappato Cioè ho utilizzato la ulti Per scappare Sto vigliacco Eh si gioca così Brazzo Lo so No Jack Eh lo io ho fatto male A quello È più di male Va bene Va bene Dai ce la possiamo fare Io intanto schivo Tipo Matrix No non sto Ah Oddio Brazzo mi ha salvato Dai Ok 3 HP Colt Morto 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 Madonna Madonna Scappa Scappa sotto Scappa sotto Ci penso io No vabbè ma di che cosa stiamo parlando Mamma mia Mamma mia Ragazzi che team Team play Guarda 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 io li beto Beccatelo Beccatelo Allora Megacassa ragazzi in offerta A 49 crediti Allora cliccala e aspetta Cliccala e aspetta Ok vai aprila e aspetta 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 Allora Jack Fai fare il glitch La connessione Allora Glitch connessione Brazzo Quinta dal gioco Come è quinta dal gioco Devi riuscire a uscire dal gioco In qualche modo Devi premere il tasto home Io sto registrando C'ho paura di mandare Tutta la cosa Allora niente Allora clicca Gira intorno alla sedia Allora Gira intorno alla sedia Non guardare Non guardare Ho cliccato Ho cliccato Quanto? 196 No è solo il numero 5 oggetti Nooo 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 Troppa fortuna oggi Troppa fortuna Troppa Abbiamo vinto troppe partite Il gioco ti punisce Colt Bombardino Bombardino E attenzione Jesse Oh buona Jesse Buonissima Jesse Nikita Ti due oggetti rimasti Attenzione Due oggetti Questo e il jet Ah Buono ma Per due Vabbè Vabbè Buono brazzo Va bene Quindi Quindi basta così Giusto Eh brazzo Dipende da te Dipende da te Dipende dai like Vabbè L'ultima cassa Mega Vaffan cuccolo Vai 3 2 1 5 oggetti Ancora rimasti Nooo Brazzo Nooo No niente brazzo Niente E perché hai troppe coppe Troppe coppe Ho troppe coppe Ormai ho trovato già La stecca 6 gem X6 X6 No brazzo Non ti fare Non mi fa prendere Dalla cosa Dalla macchinetta Sì dal video poker Esatto Raga Come ha detto Storm All'inizio Non mi ricordo neanche Quanti sei like No 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 Ti ricordi benissimo 10.000 like 50 euro Ok Quindi ogni 10.000 50 20.000 100 Non ce la farò mai 100.000 like Guarda Fortunatamente Youtube fa cagare Sto periodo Non manda le feed Tanto Anzi Se non avete ancora visto il video Ragazzi Andate a vedere Il microscopio Che ho fatto un video Con il microscopio Assurdo Quindi Andatelo a vedere Io ringrazio Storm Ringrazio Jack Prego Il brazzo Di niente Ti facciamo sedere Quando vuoi Dai Iniziamo subito con Questa serie Di Brawl Stars Vi saluto Vi ringrazio Un grande Grandissimo Abbraccio E al prossimo video Iscrivetevi al canale Bella Wuuu